Amici dell'Italia dei Valori, eccoci qua. Passata l'amarezza, la delusione del modesto risultato, diciamolo con franchezza, che ha ottenuto l'Italia dei Valori all'ultima lezione, siamo qui a chiederci e mo' che facciamo? Bisogna riflettere bene, ho riflettuto in questi giorni e voglio riflettere ancora insieme a voi per vedere cosa possiamo fare insieme. Io vivo ancora e mi batto ancora all'insegna di quelle tre parole che disse il mio procuratore capo quando ero magistrato. Resistere, resistere, resistere. Ed in questo momento sento ancora tanta voglia, sento proprio il dovere dentro di me non solo di resistere, ma di partecipare, di partecipare nell'unico modo democratico possibile, metterci la faccia, l'impegno, come prima, più di prima, per vedere cosa posso fare per questo Paese, con chi posso farlo, come posso farlo, dove posso farlo. Ecco, è con voi che mi voglio confrontare su queste basi, come e dove possiamo confrontarci. Io credo che possiamo solo farlo ricominciando da capo e ricominciando non dall'alto, ma ricominciando dal basso, ricominciandoci e incontrandoci tutti insieme, magari in un'assemblea generale come abbiamo fatto a Basto tanti anni fa, vedendo in faccia tutti quelli che vogliono partecipare per ricominciare in una nuova Italia dei Valori, perché quella che è passata, quella per cui siamo stati puniti dagli elettori, diciamola francamente, era un'Italia dei Valori che conteneva al proprio interno tanti intrusi che hanno sputtanato, lasciatemelo dire, l'Italia dei Valori. Non è colpa certo dei candidati di oggi, dell'organizzazione di oggi, dei militanti di oggi, di chi è rimasto nell'Italia dei Valori, quel che è diventato il nostro partito. È colpa dell'immagine negativa che abbiamo dato per tutti quei transfughi, per quelli che hanno approfittato di noi e hanno fatto come razzi i cilipoti. Se ne parla di loro, ma tanti altri ci sono stati nel nostro partito. E oggi, guardando a domani, che cosa possiamo fare? Beh, innanzitutto dobbiamo ringraziare chi di voi vuole partecipare a costruire e ricostruire una nuova base organizzativa di questo partito che dobbiamo ricostruire partendo da zero, partendo da capo, ripartendo da voi. Certo, oggi non è come ieri. Oggi non si viene nell'Italia dei Valori per incassare qualcosa. Si può venire, si può partecipare all'Italia dei Valori soltanto per dare qualcosa, non più per prendere qualche posto gratuitamente e poi mollarci ad andarsene. Ecco perché io ci ho pensato e ripensato in questi giorni e poi mi sono deciso non a scrivervi, ma a parlarvi col cuore in mano. Abbiamo davanti quest'estate, ma subito dopo l'estate io credo che sia necessario, o magari a fine estate, che sia necessario che ci incontriamo tutti nuovamente. E' per questa ragione che intanto e da subito comincerò, per quanto mi riguarda, a incontrare regione per regione quelli che vogliono incontrarmi. Vi scriverò a tutti quanti dicendo il giorno che posso essere nella vostra regione, per incontrarvi personalmente e per vedere cosa possiamo fare. Una cosa è certa, che questa Italia dei Valori non può basarsi solo su quella struttura ristretta che in ogni territorio pensa solo a se stesso, si organizza solo per salvaguardare un posticino di propria competenza e di proprio vantaggio. Deve essere un'Italia dei Valori che parla a tutti, si confronta con tutti e si mette in discussione, anche nella propria organizzazione all'interno del proprio territorio. Perché questa chiusura che abbiamo subito in questi ultimi tempi all'interno delle nostre strutture, unitamente a questa non chiarezza di prospettiva e di impegno che, con cui abbiamo agito in questi ultimi tempi, ci ha portato a essere ignorati. D'altronde, piaccia o non piaccia, il cittadino guarda cosa fa in concreto. È per questa ragione che voglio tornare alla concretezza di un partito che si impegna, mettendoci la faccia e il proprio nome. Io il mio nome, la mia persona, voglio continuare a mettercela e mi affido a quelli che di voi vogliono rimettersi in discussione, ricominciando da capo, attraverso una base che individua la propria struttura organizzativa fino ai massimi vertici ed attraverso un impegno nel territorio su fatti concreti e non su poltrone da conquistare. Ci rivediamo quanto prima, per ora vi auguro una buona riflessione anche a voi ed aiutatemi a fare meglio quel che non sono riuscito a fare in questi ultimi tempi. A presto.